Ada Gobetti. Nella resistenza Ada ha messo tutto a se stessa, il coraggio, l'attenzione sincera ai montanari, ai contadini, agli operai, alle donne. Ada Prospero nasce nel cuore della vecchia Torino nel 1902 e al ginnasio che conosce Piero Gobetti, che diventerà suo marito nel gennaio 1923. Si laurea nel giugno 1925 in filosofia, per poi darsi all'insegnamento e agli studi letterali e pedagogici. L'amore tra Ada e Piero diventa presto un sodalizio umano e politico, condividendo la passione per le lotte operaie e sociali nel Torino degli anni 1918-1920. Casa Gobetti, negli anni del fascismo, sarà al centro di una rete clandestina di intellettuali, che porterà poi alla costituzione del movimento Giustizia e Libertà. Ada Gobetti, diario partigiano. Ho calcolato che oggi, 9 giugno 1944, sono passate in casa mia 54 persone e qualche volta mi chiedo se questo mio affidarmi all'istinto non rasenti l'incoscienza. Il 5 settembre 1924 sono costretto ad espatriare in Francia dopo l'aggressione selvaggia avvenuta sulle scale ai danni del marito mentre stava uscendo di casa. Nel dicembre successivo nasce Paolo, ma solo nel 1926 Piero muore. Ada rimane così sola con il piccolo. Inizia quel difficile cammino che la porterà a costruire una vita mia, una vita autonoma, come confiderà ad un'amica molti anni dopo. Riprende a lavorare, grazie all'amicizia con Benedetto Croce come traduttrice, per poi insegnare inglese a seguito di un concorso nel 1928. Nel 1937 si risposa con Ettore Marchesini. Il suo impegno politico e culturale non viene meno. Nel giugno del 1940 l'Italia entra in guerra e da quel momento Ada impiegherà tutte le sue forze nell'attività clandestina antifascista. Nel 1941 fonda con altri il Partito d'Azione. Partecipa direttamente alla lotta armata anche a missioni pericolose, come quando nell'inverno del 44, con una colonna di partigiani, attraversa il Passo dell'Orso e il Colle Sommelier per prendere contatto con gli alleati e i movimenti femminili della Francia liberata. È tra le promotrici dei gruppi di difesa della donna, organizzazioni che coordinavano le azioni clandestine di aiuto alla guerriglia e di controinformazione. Questa esperienza finirà con l'essere raccontata nel Diario Partigiano, che resta una delle cronache più magistrali della Resistenza italiana, pubblicato nel 1956 da Einaudi, ristampato poi nel 1972. Sono pagine segnate dalla prevalenza degli affetti sulla politica, dalla lotta vista come passione etica e civile, dalle lacrime versate per i morti, per gli amici perduti, dall'ansia materna per i pericoli corsi dal figlio Paolo. Nella guerra partigiana Ada avrà ruoli e riconoscimenti importanti, commissario politico, medaglia d'argento al valor militare. Finita la lotta, verrà nominata vice sindaca di Torino nella prima giunta della liberazione. Oltre alla politica, Ada si impegnò come pedagogista, traduttrice, giornalista e scrittrice, connotati tutti da uno stesso impegno civile e un progetto di trasformazione democratica. Nel 1959 fonda il Giornale dei Genitori, con l'intento di aiutare i padri e le madri. Il problema dell'educazione dei figli si presenta oggi con un'urgenza spesso drammatica. È una sorta di rivoluzione copernicana quella che il Giornale sostiene. Porre al centro il bambino, il ragazzo, per promuovere lo spirito di iniziativa, l'indipendenza, il libero sviluppo delle sue capacità. Non a caso, dopo la morte di Ada, il Giornale sarà diretto da Gianni Rodari, insuperabile creatore di storie e racconti. Ad Agobetti muore a 65 anni, mentre in Italia si affaccia al movimento studentesco. Gli studenti hanno ragione. È uno degli ultimi titoli che curerà nel Giornale dei Genitori, nel numero del gennaio 1968. Grazie